Decolla con i protagonisti delle più spettacolari imprese aerei Decolla ogni settimana con Take Off Entra nella cabina di pilotaggio dei più sofisticati aerei del mondo Scopri le caratteristiche, le tecniche di volo Rivivi con i piloti le più brillanti azioni militari e civili Take Off I modelli Le tecniche Le esperienze di volo In edicola con i primi due fascicoli un esclusivo Maxi Poster Take Off Una proposta di Agostini